Giuseppe Bellisci, questa mattina è stato presentato qui in Comune un importante match, quello che si giocherà il prossimo 23 giugno proprio al De Buca. Un match importante perché i proventi derivanti dall'incasso dei biglietti saranno devoluti per acquistare un centro, un importante centro We Out che nascerà a Roma, un centro destinato ai ragazzi autistici. Sì, su queste partite che forse è giusto anche dire che sono le partite più importanti della vita rispetto al calcio che viene dopo queste cose. Mi sento chiamato in causa in prima linea al di là di tutte le cose benefiche che ci sono dove cerco di dare sempre un contributo ma come ho già detto nella conferenza precedente mi sento toccato in prima persona avendo la bimba piccola, la seconda bimba autistica e quindi non posso mancare a un evento del genere e poi soprattutto a casa mia. Quindi è giusto essere presente, essere partecipe, dare un contributo e cercare di chiamare anche a raccolta più persone possibile perché ho visto il progetto e è un progetto molto molto importante a Roma del We Out. Quindi cerchiamo di dare tutti una mano e un contributo. La tua bianca insieme a tutta la tua famiglia sarà presente, farà il tifo per te ma soprattutto per questo importante progetto. Tu prima in conferenza hai detto una frase importante la nostra società non è ancora pronta ad accogliere le persone affette d'autismo allora ti chiedo cosa si può fare di più? Cercare di essere più sensibili, più aperti, più umani dobbiamo tornare ad essere umani come sono questi bambini, queste persone perché chi soffre di autismo è una persona estremamente sensibile è una persona estremamente dolce magari tutti noi riuscissimo a rubare queste perle da questi splendidi bambini è la partita come hai detto tu che vanno a fare il tifo per questa partita non per il padre o il marito comunque sì, ho già acquistato i biglietti tutti i componenti della mia famiglia saranno presenti in tribuna e nel nostro piccolo speriamo di dare una mano a questa grandissima organizzazione. Lo hai già detto tu, comunque Ascoli è una città che quando è chiamata a raccolta sa rispondere presente tu sei Ascolano ormai d'adozione, Ascolano Doc e cosa vuoi dire alla gente soprattutto anche in funzione di questa tua esperienza che vivi personalmente? Ma c'è poco da dire, basta che l'Ascolano sappia la partita e l'ora della presentazione sono sicuro che in tanti verranno allo stadio il popolo piciano ha sempre risposto presente a queste iniziative è stato sempre un popolo generoso, accogliente e quindi sono sicuro che sapendo la data del 23 ragazzi mi raccomando il 23 verranno in tantissimi a far parte e a dare i loro contributi Dalle 19.30 tutti al De Duca Il 23, 19.30 tutti allo stadio Cinelli del Duca Grazie a tutti